Ecco lì che si intravede il nostro prossimo hotel, l'Atlantis The Palm Eccoci Siamo arrivati all'hotel Atlantis, sì! Wow! Qui passeremo le ultime due notti prima di ritornare in Italia È bellissimo Sono la vista della palla che gira Come compiere che mi trova la perna? Sì, e guardate lì C'è, con gli squalli poi Aspetta, voglio andare a vedere se qui ci sarà un ristorante Oh mio Dio, ti puoi fare il bagno con le poche? Anche quei delfili? No! E quei delfili? Oh, quanto bello In sub, ci avrei paura Stiamo andando alla nostra camera! Sì! Sì, non vedo l'ora Vediamo come sarà Sì, chissà come sarà fatta Dopo andiamo ad esplorare anche fuori, eh Ci sono negozi anche all'interno dell'hotel Questo è l'hotel più bello di Dubai Qui si può prenotare l'esperienza di nuoto insieme ai delfini Qua rischiamo di perderci, eh, per arrivare alla nostra stanza Di qua? Sì, dai, qua ci sono gli ascensori Siamo arrivati al nostro piano Wow, andiamo a vedere la nostra camera Eccoci Ok, qui c'è l'angolo caffè, diciamo Vediamo qui dentro Il minibar Wow Uh, anche gli ovetti Uh, qua ci sono delle tazze e bicchieri E qua tutto E tutto per farsi tè e caffè Esploriamo il resto della stanza Qui c'è il bagno Guarda, voglio vedere Cioè, praticamente, uno si fa il bagno E intanto guarda gli altri che stanno di là in camera Qui c'è la doccia Bella Il bagno anche con il bidet È incredibile No Che di solito non c'è mai il bidet negli alberghi Soprattutto all'estero Ma io voglio capire una cosa Anche quelli che stanno di là Vedono quello che si sta facendo il bagno Oppure no? Vediamo Sì Eh sì, ah, si può chiudere Sì, ma ho visto che c'è di là Ah, ecco Così c'è un po' di privacy Ma invece questa qui, cos'è l'armadio? Sì Bene, così qua possiamo mettere tutto E questa è la nostra stanza da letto Con due lettoni Quindi Tu e Daniel condividete il letto Oppure vi potete fare il divano letto Non lo so E poi guarda qua con lo scritto Welcome to Miss Sylvia Grazie Grazie E questo è il nostro hotel Praticamente siamo all'apice di questa isola Fatta a forma di palma Noi siamo qui da qualche parte qui E vediamo un po' la vista La vista sull'oceano Che bello Abbiamo anche delle conchiglie giganti lì Guarda Qui c'è un mega tavolo Vi piace? Sì Sì È bellissimo Qua ci sono anche dei pastetti Eh sì sì Così possiamo ricorre tutto Ok ragazzi Siamo in esplorazione dell'hotel Atlantis E abbiamo già trovato la parte che ci interessa Kids and teens area Oltre alla parte in cui si mangia In cui però andremo dopo Vediamo un po' di qua cosa c'è Wow Questo è un piccolo bar In cui possiamo prenderci un caffè Qualche negozio Questo è un mini market Ristorante libanese Oh che lo voglio Questo è per cosa c'è lì Andiamo a vedere Ragazzi quello non è uno schermo È davvero un acquario No scendiamo Voglio vedere Wow Stanno facendo immersione Ma sai che possiamo andarci anche noi? Cioè è una cosa che possono fare proprio le persone Wow Wow Lì c'è lo squalo È lì dietro Dov'è lo squalo? Wow È vero C'è davvero lo squalo Sì che avevo detto Hai ragione Io pensavo ci fossero solo delfini Invece c'è anche lo squalo E questo acquario È dentro il nostro hotel Sì Wow guarda che Sembrano stracce È vero Guarda Che bella La manta Wow Guarda la Guarda la faccia Guarda quello lì Livo là sopra Sembra che ha preso l'autobus Kids Club Da questa parte Eccolo Oh vediamo È peccato che non sia il tuo compleanno Che baby shark Harry Potter I bambini possono venire a giocare Ci sono varie attività In base al giorno della settimana E all'orario Ci torniamo domani Quando c'è il gioco libero Questo è un ristorante In cui mangi Con la vista sott'acqua Praticamente sei al di sotto Di un tunnel E intorno hai I pesci che ti nuotano Non siamo riusciti a prenotare Perché era già tutto prenotato E quindi non Non possiamo farvi vedere com'è Però andiamo Proviamo comunque a intrufolarci E vediamo se Se si può comunque vedere Com'è fatto Ok c'è anche il bar Non so però se il bar Sia sott'acqua Ma non credo Wow Che bello però Qui domani veniamo a fare merenda È bellissimo Anche le ingegne del bagno Sono a tema Affin Dolcetti vari Ok Torniamo domani Altra visuale Dell'acquario E noi continuiamo Ad esplorare Questo hotel Immenso E bellissimo Qui c'è Gordon Ramsey Qui non lo so Comunque Ci sono un sacco di cose Ah ecco Qua è dove mangeremo Questa sera Da Chef Locatelli Ronda Locatelli E qua Credo ci sia l'entrata Per l'acquario E anche per fare Quelle esperienze subacquee Che abbiamo visto prima Fare da Da quelle persone Che erano sott'acqua Qui ci si può fare Un selfie sul trono Di Nettuno Siamo sempre All'interno Dell'hotel Anche se sembra Di essere in un centro Commerciale Wow Andiamo a vedere Stanno facendo surf Lì Esperienza con i delfini Wave house Cos'è? Bullying Negozi Bullying Arcade Restaurant Oh bello Ragazzi Questa sala giochi Era veramente bellissima Però C'è veramente Troppo da farvi vedere Quindi Ci teniamo il tutto Per un altro video In cui Vi mostreremo Nel dettaglio Tutti i giochi Che abbiamo fatto Questo comunque Era il nostro arrivo All'hotel Atlantis De Palm A Dubai Un hotel Veramente Stupendo Diciamo Il top A Dubai In cui Vale la pena Passarci Anche solo Una notte Nella vita Per oggi Questo video Finisce qui E ci vediamo Nel prossimo video Con la sala giochi Ciao Ciao